salve a tutti di nuovo siamo di nuovo qui con il nostro blog a parlare di giochi di simulazione storici e non nella prima puntata anzi nella puntata 0 abbiamo un po visto una tipologia di gioco di simulazione tipico che il wargame naturalmente abbiamo anche detto ci sono diversi tipi di giochi di simulazione presenti sul mercato che sono stati realizzati non soltanto quindi non si occupano molti non si occupano unicamente dell'aspetto militare ma anche vi sono giochi di simulazione storici che riguardano argomenti di carattere politico economico anche religioso culturale alle volte uniti anche l'aspetto militare però il l'ambito diciamo più tipico del gioco di simulazione è proprio quello bellico militare il wargame wargame è una parola che significa inglese che significa gioco di guerra ed è una trasposizione del tedesco criegspiel gioco di guerra l'avete già sentito questo nome sicuramente molti di voi avranno già sentito perché era il l'esercitazione il gioco che facevano gli alti comandi prussiani tra la fine a partire dalla fine del settecento ma soprattutto poi nell'ottocento in varie in varie forme e appunto simulavano campagne militari utilizzando appunto con un arbitro che aveva delle tabelle si tiravano anche dei dadi quindi insomma alla fine fine è da lì che viene un po il gioco di simulazione cioè l'idea di ed è questa la parte essenziale l'idea di ricostruire una determinata situazione e mettere i giocatori nei panni di chi deve prendere delle decisioni relativamente a quella situazione reale criegspiel molti quando pensano a criegspiel pensano che in effetti il gioco di simulazione il gioco di guerra e anche criegspiel siano in realtà derivati dagli scacchi tant'è che in effetti alcune prime forme di queste tipologie di giochi venivano chiamati in effetti scacchi militari e si dice spesso ecco gli scacchi sono la rappresentazione ideale di una battaglia a questa linea si unisce anche un nome importante del mondo dei giochi che è James Dunnegan James Dunnegan e gli appassionati lo conoscono tutti è stato uno dei primi e più grandi autori della storia del gioco di simulazione ha fondato soprattutto la SPI l'abbiamo già incontrata questo nome l'abbiamo già incontrato nella scorsa puntata che era la ditta che si divideva il mercato negli anni 60 ma soprattutto poi gli anni 70 perché poi nasce negli anni 70 si diffonde soprattutto negli anni 70 con la Avalon il l'altro grande nome del mondo del gioco di simulazione James Dunnegan grande autore sembra che è stato addirittura lui a coniare il termine game designer che va molto per la maggiore quest'oggi a un certo punto della sua carriera scrive un libro The Complete World Games Handbook che è un po' una somma di tutta la sua carriera la sua riflessione sul gioco di simulazione e dice ma che cos'è a un certo punto che cos'è il war game e dice war game basically it's glorified chess in realtà si tratta solo di una versione un po' più complicata degli scacchi ecco molto rispettosamente non sono d'accordo assolutamente con questa affermazione perché c'è un elemento che manca negli scacchi e non è un elemento accesso un elemento fondamentale questo elemento è questo simpatico cosino dado il caso ok ossia negli scacchi tutto è determinato se io muovo una pedina vicino la mia regina mettiamo vicino al pedone dell'avversario e l'avversario nella mossa successiva potrà mangiarla e niente al mondo gli impedirà di mangiarla certo il mio avversario sa anche questo si chiederà perché mi ha dato in pasto una regina che è il pezzo più potente sulla scacchiera e lo fa mangiare da uno dei miei piedoni che è il pezzo più che uno dei pezzi più umili probabilmente più il meno importante fa parte del gioco degli scacchi e la bellezza del gioco degli scacchi ma il gioco degli scacchi sono un gioco strategico sono un gioco astratto sono un gioco filosofico non sono un gioco di simulazione nel gioco di simulazione cosa succederebbe succederebbe che arriva questa regina vicino il pedone il mio avversario muove il pedone e la regina dice aspetta un attimo tu sei un pedone sei la pedina più bassa di tutto il gioco qual è la tua forza d'attacco 2 ok io sono una regina il pezzo più importante qual è la mia forza difesa 8 tira un dado se fai 6 2 più 6 uguale 8 hai eguagliato la mia forza di difesa e mi ha eliminato altrimenti 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 può succedere di tutto in un gioco di simulazione il dado potrà dirci e le tabelle che abbiamo visto nella scorsa puntata potranno dirci che magari quel pedone sarà costretto a ritirarsi oppure che non succederà nulla oppure che il pedone sarà solo eliminato addirittura che saranno eliminati tutte e due o che dovrà ritirarsi solo la regina insomma tutta una serie di possibilità sulla base abbiamo visto di tabelle ponderate cioè calibrate sulla base del periodo storico meglio sulla base dell'idea che l'autore del gioco si è fatto di quello che succedeva in quel periodo storico ma allora tutta questa derivazione degli scacchi allora in realtà non è che sono due ambienti completamente separati hanno un antenato comune questo antenato è il chaturanga dobbiamo tornare molto indietro nel tempo torniamo in india chaturanga gioco dei quattro elementi perché esattamente come in un wargame gli eserciti erano composti da pedine che rappresentavano le principali tipologie di truppe dell'epoca elefanti carri da guerra cavalleria e fanteria si muovevano su una scacchiera questa scacchiera aveva in alcune versioni non era neutra quindi alcune caselle avevano delle caratteristiche particolari esattamente come succede in un wargame ma soprattutto eh sì c'era il dado c'era il dado i regolamenti ci sono diverse ipotesi alcune pensano che per esempio il dado poteva determinare quante delle nostre pedine si muovevano in un certo turno altri addirittura all'esito degli scontri diretti insomma capirete bene che siamo ben lontani dagli scacchi siamo lontani soprattutto da quello schema che vede chaturanga scacchi gioco di simulazione in realtà lo schema è più chaturanga scacchi gioco di simulazione con una derivazione parallela gioco di simulazione un po più in basso mettiamola così perché è venuto molto tempo dopo gli gli scacchi questo perché il chaturanga nel tempo ha perso l'elemento del caso passato in ambito greco poi dopo in ambito islamico diventato lo chaturanga e in questi ambiti il caso era venuto visto male dal punto di vista etico si pensava che lo relegasse ad un gioco tra bambini o addirittura ad un gioco d'azzardo anche se gli scacchi ci sono stati ne parleremo un po momenti in cui gli scacchi stessi hanno fatto oggetto di scommessa quindi scacchi gioco di simulazione non sono discendenti sono lontani parenti più vicino al gioco di simulazione per dirne una è il gioco di carte nella quale io mi trovo immaginate una partita briscola a brigio io ho un mazzo di carte e devo saperle utilizzare quanto meglio posso questo paragone lo fa una persona un signore che si chiama von clausewitz del quale parleremo tantissimo nelle prossime nelle prossime puntate per ora ci fermiamo qua ma visto che abbiamo parlato di scacchi e carte non sono proprio tarocchi però forse un pochino ci assomigliano è il gioco di cui vi voglio parlare e alla fine di questa puntata nightmare chess della steve jackson games non è difficilissimo da reperire modulo base poi c'è anche un'altra espansione praticamente cosa succede mettete la vostra scacchiera fate la vostra bella partita scacchi però sulla base dei vari varianti a un certo punto voi il vostro avversario potrete giocare queste carte che fra l'altro sono anche veramente molto belle gioco vale la pena riprenderlo soltanto per le illustrazioni che fanno un po impazzire la scacchiera quindi avrete pedoni che si comportano come alfieri caselle che vengono e diventano delle trappole che mangiano le pedine che ci sono sopra addirittura la scacchiera che si allarga che si restringe o che si allarga insomma un po di tutto lo rendo gioco di simulazione no certo che no però nightmare chess fa diventare gli scacchi un qualcosa di più di un gioco semplicemente astratto e simbolico qual è per quanto stiamo sempre parlando degli scacchi che è probabilmente il gioco più giocato sul sulla faccia del pianeta detto questo vi saluto come sempre e come sempre vi auguro buon divertimento e alla prossima ciao 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 ciao